sono tornato ragazzi subito partiamo devo cambiare giocatore quando non giocano bene bene panchina diglielo alex diglielo diglielo che giorgio ci ha lasciato nel mezzo così bastardo è fatto ma più che altro è fatto male per questi spazi così perché nelle coperture però sotto gente adesso abbiamo due team sotto manca uno sotto di voi e qua e qua e qua e qua e qua e qua dentro deve finire perché deve far vedere la mamma che c'è la chi va da restare il 52 di piede 49 e mezzo grazie mi lasci i soldi compro la cassa e qua che ti prendo la piastra la piastra qua con la piastra andiamo a prendere la taglia raga video andiamo ai dietro si stanno leggermente avvicinando a noi danno fastidio se posso permettere che cosa c'hai una bicicletta troppo veloce sono douglas sono flash corro come douglas in questo momento sei morto giorgio l'omba fattelo ho già fatto giocato questo scudo anti sommossa l'omba fattendo le piastre salgo sopra e fuori fuori non è ancora passato dietro mamma mia quanto vecchia questo bello dell'omba cazzo mi ha visto ma sta citando ma rega ma c'è vola qui mi sa sai ma cominciato a guardare il tetto anche se non m'ha visto che io vado a prendere le nostre armi lì dove siamo a no scendiamo che c'è qua che dici se prendiamo sta coroncina non possiamo farlo non possiamo farla se non noi possiamo farla un po rischiosa ma no regà chi non risica non rosiano ma noi non abbiamo paura di nulla siamo abbastanza confine l'omba sta dicendo dai prendi la prendi la cazzo la prendo io lomba mi stai guardando la prendo io ti sto guardando vai hai partito il countdown tre minuti sto sudando dei lobi dell'orecchio talmente fa caldo ragazzi si compra si fa shopping si fa shopping tutti allo shop boys come cazzo si esce da questo posto di marda non riesco a trovare l'uscita ok power che vada solo come un pazzo certo dobbiamo accelerare ragazzi se no rimaniamo che ci tagliamo fuori fa se fack boy ma che hai fatto aspetta aspetta lomba grazie ma perché mi sciolgono sempre a messa cosa non la capisco qua davanti vai qua qua eccolo no non ci credo no vabbè l'ho messo uno a terra raga l'ho messo uno a terra no si sono sono più di un team uno fatto terra uno si sta restando l'ho fatto fatto quanto pare ma quale cazzo di getera parecchia va 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 vado vado ovviamente tanta roba guarda ti romovo via sbuffo oooo due team dove? guarda lì eh si 3 team dirai te l'hai preso lombo? si si ce l'ho io mamma mia se riesco a tirar glielo faccio una strada secondo me dobbiamo prima arrivare sotto lombo si 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 andiamo sotto e lo tiriamo io lombo stiamo pushando eh ragazzi aspetta prendo tutto eh perchè stanno combattendo per quello lombo dovresti tirare tipo attaccato al muro qui al centro eh tirando proprio al meglio allora io sono sotto se volete hanno tirato il graffolo lo so tu hai il bombardamento davanti a te eh aspetta lombo tiralo non me lo fa tirare si si ho visto sono morti tutti no no sono morti tutti sono morti tutti l'avete visto? dove? è lì è lì e' sotto? si e' salirà allora intendo che non ci vogliamo xd oooh Che è successo? Eh, hanno tirato un colpo di cecchino Uno che vola Ma che cazzo è st'arma? Col caricatore a dieci colpi Allo shop, allo shop Sì, allo shop Vado? Ho tirato un grappolo, eh? No, ma dove mi era tirato? Mi sparo, andò dietro Sì, qua dietro Mi sono dovuto buttare qua sopra Eh, da sopra pure Da sopra dove? Eh, da davanti, scusami, non da sopra Qua dietro la macchina, non va E' salito sopra, stai andando Ho già craccato Accanto a me, accanto a me Sto arrivando, eh Come a terra Come va, Alex? Non sto bene? No, malissimo Come è malissimo? Fatti due Io, l'omba, voglio prendermi troppo la mia arma Ok, ok, vola, vola, vola Sono sopra, sono sopra Andato, uno è andato Almeno due Da sopra al palazzo, uno è sopra al palazzo, ragazzi Cercate di muovervi, cercate di muovervi mentre andiamo Ecco l'omba Sto andando ad aiutare Giorgio A destra l'omba Terra Andato sopra Qua, 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 fatto, terra Sopra, sopra, sopra Mi sto curando, mi sto curando pure io Sopra, 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 sopra e qua Stunna, ha stunnato l'omba Fatto L'abbiamo fatto in due da stunnati Sì, sì, sì Oh mio Dio Attenti al C4, attenti al C4 Aspetta, aspetta Due fatti, ho bisogno di una mano Manca uno Si restano, si restano Mi riuscite a prendere? Vai, va, va Grazie Bravi, raga, bravi Bel game questo Stiamo fightando come dei maschi, eh Eh sì Capo aperto Fatto Quelli sopra il tetto, ora A terra Bombardamento Craccato uno Fatto Si spara da sinistra È lì dietro Campo aperto 390 320, sì, vabbè, scusa Iron Man, è discivolata A 320, ragazzi Là Vabbè, è morto Si sposa a sinistra Va dietro Ragazzi, mancano sette, eh Eh sì Non se ce l'abbiamo sotto Mancano O stile in discesa What? Da dov'è? Ah, ammazzato Ah, due ne mancano Tutto Sotto di me, lo sento No, sono io Tutto, subito sotto di me No, no, ah no, sei tu, lol Là dietro Uno a terra È l'ultima lì C'è sto i piedi, Ale Olè Si rigi, ragazzi Come push Alla paghetà Alla paghetà Pusho Alla paghetà Ma sai Che game, oh Madonna, ragazzi GG, GG, GG GG, ragazzi Figge Sono suvi Wan NEW C'è un certo punto German ам Ciao ciao Un abbraccio ragazzi Buona serata Buona serata